Buon tornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è l'Anacarezza Lamè di tre sfere. Sono gomitoli da 100 grammi e il filo è lungo 380 metri. È un filato molto morbido e come vedete io sto usando il colore blu e intorno al filo si vedono questi filamenti lurex che danno un luccichio molto elegante al filato. La composizione del filo è di 97% acrilico e 3% poliestere. Sull'etichetta è indicato di lavorare con l'uncinetto che va dal 2 al 2,5 però poi dipende dalla mano e come lavorate. Fate delle prove e vedete che tipo di uncinetto può essere adatto per voi. Io andrò a lavorare con l'uncinetto numero 4 per dare ancora più morbidezza nonostante il filato è bello morbido. Detto questo possiamo iniziare con la lavorazione. Prima di iniziare la lavorazione vi spiego cosa dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare due pannelli. Questi due pannelli vanno lavorati in lunghezza e comprendono il quarto del davanti e il quarto del dietro. Quindi dobbiamo lavorare in questo modo, poi una volta che pieghiamo abbiamo un quarto del davanti e un quarto del dietro e ne dobbiamo fare due. Quindi poi quando li ripieghiamo su se stessi abbiamo due davanti e due dietro. Per quanto riguarda le misure che dobbiamo prendere, dobbiamo prendere la misura che va dalla spalla fin dove volete la lunghezza. Nel mio caso sono 59 centimetri, quindi ho calcolato 59 centimetri per due, perché una volta che poi dobbiamo ripiegare dobbiamo avere la stessa lunghezza. E questo è il davanti e questo è il dietro. Poi andremo a cucire, questa è la parte dello scalfo, ho lasciato 18 centimetri e vado a cucire il fianco e solo la parte del dietro. Il davanti lo lascio aperto. Per quanto riguarda il punto ho voluto lavorare questo punto molto bello e particolare, reso anche particolare dal filato. Con un campione vi faccio vedere come dobbiamo lavorare il punto. Ve lo faccio vedere con un altro colore, perché il colore blu è molto oscuro, quindi non rende molto dalla telecamera. Però questo è sempre l'ana, carezza lame della tre sfere, solo che sto usando il colore grigio. Per quanto riguarda il punto è multiplo di 14 più 2. Quindi dobbiamo avviare 14 catenelle fino a raggiungere la nostra lunghezza. Quindi 14 più 14 più 14 e alla fine dobbiamo aggiungere 2. Io ho avviato 182 catenelle più 2 per arrivare alla mia lunghezza, che sono in totale 118 centimetri. Quindi con l'uncinetto numero 4 vado ad avviare al multiplo che è di 14, quindi 1, 2, 3, 4. Nel modello originale ho avviato 182 catenelle più 2. Una volta che avete stabilito la lunghezza che volete del vostro cardigan, avviate le vostre catenelle, rispettando il multiplo di 14. Io nel progetto originale ho avviato 182 catenelle più 2, che corrispondono a 118 centimetri. Aggiungo 2 catenelle, che queste, una mi serve per voltare e una per lavorare una maglia bassa e una catenelle, che corrisponde a una maglia alta. E vado a lavorare maglie alte su ogni catenella sottostante. Vado a fianco, maglia alta. A fianco, maglia alta. Una volta lavorato il primo giro, andiamo ad alternare due giri lavorando una maglia alta rilievo avanti e una maglia alta rilievo dietro. Perché poi una volta che vado a piegare, sul davanti abbiamo la rifinitura e poi anche sul dietro e andiamo a cucire sul dietro con la rifinitura. Quindi giro il lavoro, mi alzo con una catenella e vado a lavorare la prima maglia alta normalmente. Vado a fianco, entro con l'uncinetto dall'esterno, entro verso l'interno e sposto la maglia alta verso l'esterno. Prendo il filo e lavoro una maglia alta a rilievo dietro. A fianco invece con l'uncinetto da dietro, porto la maglia alta sull'uncinetto sul davanti. E qui lavoro una maglia alta a rilievo avanti. Vado a fianco con l'uncinetto, entro da dietro verso l'interno e sposto la maglia alta verso l'esterno. E vado a lavorare una maglia alta a rilievo dietro. E a fianco maglia alta a rilievo avanti. Dobbiamo proseguire questa lavorazione fino a terminare la riga. Quindi alterno una maglia alta a rilievo avanti, maglia alta a rilievo dietro, maglia alta a rilievo avanti. Concludo il giro come abbiamo iniziato, lavorando una maglia alta normale. Quindi sull'ultima maglia alta vado a lavorare una maglia alta presa normalmente. Giro il lavoro e devo andare a incolonnare le maglie alte a rilievo. Quindi dove abbiamo la maglia alta a rilievo avanti, lavoriamo maglia alta a rilievo avanti. E dove abbiamo la maglia alta a rilievo dietro, lavoriamo a rilievo dietro. E vado a lavorare questo giro e un altro giro. Mi alzo con una catenella e questa maglia alta la lavoro normalmente. A fianco ho una maglia alta a rilievo avanti. Si riconosce perché la barretta è più sporgente. Quindi entro e lavoro maglia alta a rilievo avanti. A fianco invece è nascosta e significa che devo lavorare una maglia alta a rilievo dietro. Qui maglia alta a rilievo avanti. E a fianco maglia alta a rilievo dietro. A fianco a rilievo avanti. E a fianco a rilievo dietro. Continuo questo giro e il prossimo giro. Abbiamo lavorato il bordo del davanti e del dietro perché poi andiamo a ripiegare. In questo modo abbiamo metà del davanti e metà del dietro. Andiamo a lavorare il punto fantasia. Mi alzo con una catenella e vado a lavorare una maglia alta nella maglia alta sottostante. Vado a saltare due maglie di base 1 e 2 e nella terza maglia alta lavoro due maglie alte 1 e 2. Una catenella rientro nello stesso punto e lavoro altre due maglie alte 1 e 2. Questa volta salto tre maglie di base 1, 2 e 3. Nella quarta maglia alta lavoro una maglia bassa. Di nuovo due catenelle 1 e 2. Salto 1, 2, 3. Nella quarta maglia alta vado a ripetere il ventaglietto di due maglie alte 1 e 2. Una catenella rientro due maglie alte 1 e 2. Questa volta non faccio catenelle di separazione ma vado a saltare 1 e 2 e nella terza maglia alta vado a lavorare una maglia alta a rilievo dietro. Con l'uncinetto entro dal davanti e sposto la maglia alta sul dietro. Prendo il filo e lavoro maglia alta a rilievo dietro. Ripeto il motivo del ventaglietto di due maglie alte 1 catenella e 2 maglie alte senza fare le catenelle. E salto 1, 2 e nella terza maglia alta ripeto 2 maglie alte 1 catenella e 2 maglie alte 1 e 2. Adesso devo andare a ripetere questo motivo lavorando le catenelle 2 catenelle 1 e 2. Salto 1, 2, 3. Nella quarta maglia alta lavoro una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 catenella e salto 1, 2, 3. Nella quarta il ventaglietto di due maglie alte 1 e 2 catenella. Rientro 2 maglie alte 1 e 2. E abbiamo ripetuto questo motivo. Ora devo ripetere il motivo della maglia alta. Quindi non faccio catenelle di separazione ma salto 1 e 2. Sulla terza maglia alta entro dal davanti e sposto la maglia alta verso il dietro. E lavoro una maglia alta a rilievo dietro. Salto 1 e 2 e nella terza vado a ripetere le 2 maglie alte, la catenella e 2 maglie alte. Vado a ripetere le catenelle di separazione. Quindi 2 catenelle. Questa volta salto 1, 2, 3. Nella quarta maglia bassa. 2 catenelle. Salto 1, 2, 3. Nella quarta vado a lavorare il ventaglietto di 2 maglie alte. 1 catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. Adesso devo saltare 3 maglie alte di base e vado a lavorare una maglia alta. Quindi 1, 2 e nella terza lavoro una maglia alta. E questo è il primo giro. Andiamo a lavorare il secondo giro. E in questo giro lavoriamo dove abbiamo i ventaglietti all'interno della catenella. Ripetiamo il ventaglietto di 2 maglie alte. 1 catenella e 2 maglie alte. Sulla maglia alta a rilievo, in questo caso ce l'abbiamo sul davanti, e lavoriamo 1 maglia alta a rilievo avanti. E poi ripetiamo le catenelle. Ci alziamo con una catenella. Lavoriamo 1 maglia alta sulla maglia alta sottostante. La lavoriamo normalmente. All'interno della catenella lavoro 2 maglie alte. 1 e 2. 1 catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. Qui abbiamo le catenelle di separazione. A questo punto facciamo 2 catenelle di separazione. Entriamo dove abbiamo il primo archetto e lavoriamo 1 maglia bassa. 3 catenelle. 1, 2 e 3. E formiamo un altro archetto. Entrando dove abbiamo le catenelle di separazione, lavoriamo 1 maglia bassa. Quindi abbiamo 1 e 2 e adesso altre 2 catenelle di separazione. E lavoriamo all'interno le 2 maglie alte. 1 e 2. 1 catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. Qui abbiamo la maglia alta a rilievo avanti. Non facciamo catenelle di separazione ma prendiamo la maglia alta a rilievo avanti. E lavoriamo la maglia alta a rilievo avanti. Qui all'interno lavoriamo 2 maglie alte. 1 e 2. 1 catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. Qui abbiamo le catenelle di separazione. Quindi da 2 archetti dobbiamo formare 3 archetti. Quindi 1 e 2. Nel primo archetto facciamo 1 maglia bassa. 3 catenelle. 1, 2 e 3. Andiamo sul secondo archetto e lavoriamo 1 maglia bassa e 2 catenelle. Quindi abbiamo 1, 2 e 3. E sempre all'interno del ventaglietto lavoriamo le maglie alte come si presentano. Qui il ventaglietto rimane invariato. Qui non dobbiamo fare le maglie alte ma entriamo le catenelle ma entriamo e lavoriamo 1 maglia alta a rilievo avanti. Qui ripetiamo le 2 maglie alte. 1 e 2. La catenella. E 2 maglie alte. Qui 2 catenelle. Andiamo dove abbiamo il primo archetto e lavoriamo 1 maglia bassa. 3 catenelle. Sul secondo archetto 1 maglia bassa. 2 catenelle. E ripetiamo le maglie del ventaglietto come si presentano all'interno della catenella. E terminiamo con una maglia alta. E questo è il secondo giro. Adesso dobbiamo ripetere dal primo giro. Ripetiamo il giro numero 1. 3 catenelle. Mi alzo con una catenella. Rientro nello stesso punto e lavoro 1 maglia alta. Qui abbiamo il ventaglietto e ripetiamo. Il ventaglietto come si presenta? Con 2 maglie alte. 1 catenella. Rientriamo 2 maglie alte. 1 e 2. Qui abbiamo le catenelle di separazione. E dobbiamo eliminare i 3 archetti. Dobbiamo lavorare di nuovo 2 archetti. E lavoriamo in questo modo. 2 catenelle. 1 maglia bassa dove abbiamo l'archetto centrale. 2 catenelle. E andiamo direttamente dove abbiamo il ventaglietto. E lavoriamo 2 maglie alte all'interno della catenella. 1 catenella. E 2 maglie alte. 1 e 2. Qui abbiamo la maglia alta però questa volta siccome abbiamo girato la lavorazione ce la ritroviamo maglia alta rilievo dietro. Quindi con l'uncinetto entro da dietro, sposto la maglia alta verso il dietro e lavoro la maglia alta rilievo dietro. Qui abbiamo il ventaglietto e ripetiamo. Il ventaglietto come si presenta? 2 maglie alte. 1 catenella. E 2 maglie alte. 1 e 2. 2 catenelle. 1 e 2. Abbiamo 1, 2, 3. Andiamo nell'archetto centrale e lavoriamo una maglia bassa. 2 catenelle. E ripetiamo il ventaglietto come si presenta? 1 e 2. Maglia alta a rilievo dietro. 1, ventaglietto, 2 maglie alte, 1 catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. 2 catenelle. Vado dove ho l'archetto centrale, maglia bassa, 2 catenelle. Qui, ripeto, 2 maglie alte, 1 e 2. 1 catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Lavoro una maglia alta sulla maglia alta sottostante. E questi sono i giri che dobbiamo ripetere. Adesso dobbiamo ripetere il giro numero 2. Come vedete il punto è molto bello e particolare. Dobbiamo proseguire questa lavorazione fino a raggiungere la nostra larghezza della nostra circonferenza. Nel mio caso ho lavorato per 25 cm. Quindi poi piegando a metà mi ritrovo 25 sul davanti e 25 sul dietro. Lavorando l'altro quarto anteriore mi ritrovo 25 davanti e 25 dietro. E unendoli sono 50 cm. Quindi prendete la vostra circonferenza e dividete per 4. Vado a lavorare il giro numero 2. Poi proseguite in questo modo alternando giro numero 1 e giro numero 2 fino alla vostra larghezza della vostra circonferenza. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Qui abbiamo il ventaglietto e lavoriamo il ventaglietto come si presenta. Con due maglie alte, una catenella, rientriamo all'interno della catenella e lavoriamo due maglie alte. Qui abbiamo le catenelle. Lavoro prima due catenelle. Dove ho il primo archetto, una maglia bassa. Tre catenelle. Dove ho il secondo archetto, una maglia bassa. Due catenelle. Qui lavoriamo il ventaglietto come si presenta. Una catenella e due maglie alte. Questa volta qui ho una maglia alta a rilievo avanti. E lavoro maglia alta a rilievo avanti. Qui il ventaglietto. Qui lavoro prima due catenelle. Una maglia bassa, tre catenelle. Una maglia bassa e due catenelle. Ripetiamo il ventaglietto di due maglie alte. Una catenella e due maglie alte. E maglia alta a rilievo avanti. Quindi una lavorazione che poi una volta che andiamo avanti ci viene in automatico. Il giro successivo invece lavoriamo sempre il ventaglietto come si presenta. Qui invece di tre archetti lavoriamo due catenelle. Una maglia bassa sull'archetto centrale. Due catenelle e il ventaglietto come si presenta. La maglia alta, visto che poi giriamo, la dobbiamo lavorare a rilievo dietro. Ventaglietto, due catenelle, una maglia bassa, due catenelle, ventaglietto. Una volta che avete stabilito la vostra larghezza, quindi la lunghezza già ce l'abbiamo perché abbiamo lavorato per lungo. Dovete lavorare per la vostra larghezza. Nel mio caso sono 25 centimetri. Questa è la parte del dietro e questa è la parte del davanti. Ho ripiegato i due pannelli e ho fatto coincidere anche i motivi. Per quanto riguarda lo scalfo, ho messo il segno e sono 18 centimetri. Se avete uno scalfo più profondo scendete fino a 19-20 centimetri. Una volta che avete finito il tutto, dobbiamo cucire. Io vado a cucire con maglie bassissime e l'uncinetto. Per quanto riguarda il dritto e il rovescio, lo decidete voi. Nel senso che io vado a cucire, per me questo è il mio rovescio, dove ho la maglia alta a rilievo avanti. Perché a me non piaceva molto l'effetto di questa maglia alta a rilievo avanti, ma ho preferito che il mio davanti avesse questa lavorazione più piatta sul davanti. Quindi la maglia alta è a rilievo dietro. Se invece a voi questo effetto non piace, cucite da questa parte e quando andate a girare vi ritrovate il diritto con la maglia alta a rilievo avanti. Questo lo decidete voi, è una questione di gusto. Adesso con l'uncinetto vado a fare questa cucitura riprendendo il movimento del punto. Quindi una volta che avete stabilito per voi il vostro diritto e il vostro rovescio, con l'uncinetto o se preferite con ago e filo, andiamo a fare delle maglie bassissime. Prendendo il punto da un lato E faccio una maglia bassissima Vado qui, prendo tutte e due le asole Del ventaglietto, entro e lavoro una maglia bassissima E vado a cucire fino all'orlo Poi andiamo a unire il dietro e dobbiamo fare la stessa cucitura E ci fermiamo qui dove abbiamo la metà Comunque andate avanti e poi ve lo faccio vedere Una volta che abbiamo cucito, questa è la parte interna del nostro lavoro Come vedete dobbiamo far coincidere il motivo Adesso dobbiamo cucire la parte del dietro Il davanti lo lasciamo aperto Quindi dobbiamo mettere due pannelli contro Dalla parte dove abbiamo lavorato le maglie alte a rilievo E dobbiamo far coincidere sia i motivi Che la metà di sopra, metà di sotto Quindi mettiamo dei segni Dobbiamo cucire sempre dalla parte del rovescio Con maglie bassissime Questa è la parte di sotto Mi vado a mettere un segno Sono attenta per fare coincidere il motivo Quindi a questo punto vado a mettere un altro segno Fino dove finisce la nostra metà del dietro E andiamo a cucire con maglie bassissime E poi andiamo a riprendere la manica Una volta che abbiamo cucito il tutto Adesso andiamo a riprendere il giro manica E andiamo a riprendere il motivo Dal sotto manica vedete dove vi trovate Io mi ritrovo qui dove ho l'archetto centrale E inizio proprio di qua Mi alzo con una catenella E lavoro una maglia bassa Due catenelle Uno e due Vado dove ho il ventaglietto E ripeto le due maglie alte Uno e due Una catenella E due maglie alte Uno e due Questa volta però Siccome stiamo lavorando in tondo E non in giri di andata e ritorno Siccome io ho voluto la maglia alta A rilievo dietro Devo lavorare tutti i giri Con la maglia alta a rilievo dietro Se voi avete scelto la maglia alta A rilievo avanti Sempre maglia alta a rilievo avanti Per tutto il lavoro Quindi vado a lavorare Una maglia alta a rilievo dietro Qui lavoro il ventaglietto Come si presenta Il punto non è cambiato Due catenelle Vado dove ho la maglia Lavoro una maglia bassa Due catenelle E qui vado a ripetere Le due maglie alte Catenella E due maglie alte Mi ritrovo di nuovo Dove ho la maglia alta a rilievo E la lavoro maglia alta a rilievo dietro E proseguo questo Fino a terminare il giro Terminato il giro Vado dove ho L'archetto centrale Chiudo con una maglia bassissima E mi sposto dove ho fatto La maglia bassa E chiudo con un'altra maglia bassissima Devo lavorare Il giro numero due Qui mi ritrovo con Due archetti E devo lavorare Tre archetti Quindi mi sposto direttamente Nell'archetto a fianco Con una maglia bassissima Mi alzo con una catenella Rientro nello stesso punto E lavoro una maglia bassa Due catenelle Vado dove ho Il motivo Del ventaglietto E lo lavoro Come si presenta Qui maglia alta A rilievo dietro Ripeto il ventaglietto E devo proseguire Questa lavorazione Fino alla lunghezza Della mia manica Che sono all'incirca 45-47 cm Qui faccio due catenelle Vado sul primo archetto E lavoro una maglia bassa Tre catenelle Sul secondo archetto Una maglia bassa Due catenelle E proseguo la lavorazione Come abbiamo fatto Fino adesso Proseguite la vostra Lavorazione Fino alla lunghezza Della vostra manica Questo è il risultato Una volta che abbiamo Finito la manica Quindi lavorando in tondo Dobbiamo lavorare Il punto come si presenta Però la maglia alta A rilievo dietro Invece di rilievo avanti Sono andata avanti Per una lunghezza Di all'incirca 47-48 cm E vado a lasciare Questo bordo Molto carino Quindi non vado A rifinire Vado a rifinire Invece Sotto al cardigan Riprendendo la lavorazione Come abbiamo fatto Dietro E sul davanti Quindi facendo Delle maglie alte A rilievo avanti E maglie alte A rilievo dietro Inizio la lavorazione Questo è il quarto Anteriore E vado a lavorare Sull'orlo inferiore Del cardigan Entro con l'uncinetto Mi alzo con una catenella Rientro nello stesso punto E lavoro Una maglia alta Vado a pareggiare Il bordo inferiore Il primo giro Con maglie alte Poi Vado a lavorare Un totale Di tre giri Alternando Una maglia alta A rilievo avanti E una maglia alta A rilievo dietro Come abbiamo Lavorato Il quarto Quindi vado avanti Lavorando tutto Il quarto anteriore Proseguo per Il dietro Poi di nuovo Il quarto Anteriore Arrivato al termine Devo girare E vado Ad alternare Le maglie alte A rilievo avanti E maglia alta A rilievo dietro Una volta che abbiamo Pareggiato il tutto Giriamo il lavoro E riprendiamo La stessa lavorazione Del quarto Anteriore Facendo gli stessi giri Il primo La prima maglia alta E l'ultima La andiamo a lavorare Normalmente Invece A fianco Entro E lavoro Maglia alta A rilievo dietro Vado a fianco Maglia alta A rilievo avanti A fianco Maglia alta A rilievo dietro E a rilievo A rilievo avanti 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 25 cm A rilievo di uncinetto Ci vediamo a presto E grazie per la visione Ciao